Bimbo Gigi! Ciao amici! Io mi chiamo Gigi! Sì, lo sappiamo! Ciao Marco, ti ricordi di me? Ma non benissimo però un po'. Porca miseria, sono contento di ritrovarvi, ciao! Ma dove sei finito? Eh, ho avuto delle vicissitudini! Eh, delle vicissitudini? Porca miseria, mi ha mandato in collegio il mio papà! Ma perché? Come mai? E sono stato bocciato! No, ma com'è possibile? Eh, non me lo spiego nemmeno io! Ciao, io mi chiamo Gigi! Ma lo sappiamo! Ti sa anche il brutto collegio, il posto austero... Beh, insomma! Dov'è? Sei mesi alle Maldive! Ah, collegio! Alle Maldive in collegio! Non si stava tanto male! Anche perché mio papà mi ha detto di buttare lì un occhio sulle animatrici! Ah, ok! Collegio con animatrici! Con animatrici! E hai trovato qualcosa? Ne ho trovata una! Com'è? Una bella donna? Perché non ce l'hai portata? Marco! Regalo di Natale! Ce l'hai portata? Solo per te, Marco! Grazie, bimbo Gigi! No, però Gigi, un attimo! È una bella donna? Siamo oltre la bella donna! No, 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 un attimo! Ma no, un attimo! Voglio chiedere una cosa io! Il papà come ha commentato? Allora, vi dico solo una cosa! Che il mio papà delle donne oramai non gli... Esatto, non gli dicono più niente! La vista è rimasta bocca aperta! Veramente! Marco, solo perché sei un amico! Vai, fallo venire! Non sto più nella pelle! Vieni! Chi è? Dai, dove... Ciao, sono a Gigi! La tua Gigi, Marco! Ma sei un imbecillito! Marco! Ma è una follia! Ma come per me? Ma come vestite? Ma portatela via! No, perché giusto per Marco! Ma cosa è giusto per Marco? Sì, mi sono fatta i capelli alla Spice Game! Ma che trispezza! Tutto per te, Marco! È trispezza! No, no, portatela via! Oh! Marco! Il mio papà ha detto che la userà come tiro al piattello! Ecco! Prima che la usi lui! No, no, no! Non importa! Dagliela pure! Rimanete lì! È andata! È andata! Ciao, amici! Marco, un bacio! Ma che è un bacio! Ciao, amici!